Però, breve, giuro, cercherò di aggiungere se possibile un paio di spunti alla cornice già ricca ed esaustiva data dal direttore. Parliamo di nuove tecnologie, però mi piaceva mettere a confronto due spunti avuti in questi giorni. D'una parte abbiamo un pezzo delle conclusioni dello Shaping Europe's Digital Future, dove ci dicono che ovviamente queste tecnologie digitali sono uno strumento, non sono fino a se stesse, il successo dell'utilizzo delle tecnologie sarà valutato per quello che è l'incremento di valore e di benessere verso i cittadini. A destra vedete quello che è un manifesto uscito la scorsa settimana da parte della comunità che riguarda immobiliare, perché poi il nostro sforzo è calare queste tecnologie sul nostro cantiere, cioè sul gestire immobili pubblici, e diciamo che è una buona declinazione, dove ci si dice che anche qui la tecnologia non è un fatto veramente scientifico applicato agli immobili, e qui stiamo parlando di immobili, ma anche qui deve essere considerata uno strumento per una risorsa, anzi finalizzata a benessere, sicurezza, sostenibilità e bellezza. Il contesto si muove, tra l'altro ovviamente a questo tavolo siamo stati chiamati a dare il nostro contributo, ci sono i più grandi proprietari privati, siamo chiamati anche noi e, insomma magari mi gioco l'invito, se il sottosegretario dà piacere, potremmo portare anche il progetto Smart Italy, visto che si sta parlando di quello, c'è Generali, ci sono tutti i grandi blocchi, SGR e quant'altro. Tema che ha già ampiamente trattato il direttore, una visione statica degli immobili pubblici, noi oggi abbiamo l'immobile ufficio, il nostro uso governativo, come diceva Alessandro Foggia, e una buona parte ancora di immobili inutilizzati, che rappresentano quelli meramente a un costo, perché non sono neanche utilizzati come uffici pubblici. Dobbiamo arrivare a una visione dinamica, all'immobile valore, e in questo passaggio, che ovviamente ci porta ad andare incontro a quello del tema della logica di prossimità, quindi di capire quali sono le esigenze della comunità, ci sono vari passaggi in quella freccia. Uno, c'è sicuramente un tema caro a sviluppo economico ed economia, che è quello degli investimenti, cioè fare quel passaggio significa avere una buona dotazione di risorse da investire. Due, c'è un tema di pianificazione, perché oggi, mentre vedo l'immobile sulla mia cartografia, mappa, interattiva che possa venire, la vedo esclusivamente l'immobile, devo riuscire a contestualizzarlo, e in questo Smart Italy mette l'immobile in una rete che connette l'esigenza e le proprietà. Quindi l'idea di arrivare a una carta delle proprietà pubbliche che possa veramente pianificare. Questa è un'ottica che anche in chiave europea, la Smart City europea, abbiamo ormai dal 2015. Mi sono permesso di citare anche un tema che ovviamente è una direzione più ricevuta, che forse è cercata, ma oggi obbligata, che è quello che vede la pubblica amministrazione utilizzare in futuro i suoi uffici in una percentuale molto minore rispetto ad oggi, con un lavoro agile che si va a posizionare tra il 30 e il 40%. Questo obbliga tutti a un ripensamento dell'uso governativo, perché se il 30-40% non viene utilizzato, abbiamo sicuramente un margine da andare a coprire con un'estrazione di valore. Di questo ha detto veramente, credo, tutto il direttore, cioè è il contesto 21-27 in cui ci rimuoviamo, ci sono un po' di richiami sparsi, ma hanno poi un senso, sono questi qua. Se vediamo anche gli obiettivi, i più vicini a noi sono sicuramente il 5, un'Europa più vicina ai cittadini, il 2 e il 4 sono meno male un vestito di quello che è l'immobile, cioè interventi sugli edifici per la riqualificazione energetica e la sicurezza e la migliore qualificazione dell'offerta turistica, artistico-culturale. Con questo buon bellezza, soprattutto il Piano Nazionale delle Riforme, approvato da poco, che richiama tutti questi passaggi. Quello che mi faceva piacere sottolinearvi, ed ho quasi chiuso, rispetto al tema del 21-27 e quindi di tutta questa massa finanziaria che potrebbe essere comunque riportata a questi progetti e che da un anno e mezzo la Commissione europea ha sposato un nostro progetto che è quello che riguarda, nella DG Reform, il sostegno alle riforme strutturali della pubblica amministrazione. In questo senso la Commissione europea ha valutato positivamente il fatto che l'Agenzia si strutturi e si qualifichi per andare a canalizzare risorse comunitarie sui progetti di valorizzazione. È un anno e mezzo che ci stiamo lavorando, a fine anno avremo le risultanze, però, diciamo, oltre a i desiderata che abbiamo espresso nel PNR e a tutto quello che ha rappresentato il direttore, diciamo, l'ambiente è anche fertile, se vogliamo, a livello europeo, perché è la stessa Commissione che ci ha finanziato e ci sta sostenendo. Tra l'altro oggi, nella DG Reform, da giugno, abbiamo un italiano che marionava alla guida, quindi, insomma, speriamo che a maggior ragione ci possa sostenere. Un progetto, sempre che riguarda il programma di sostegno alle riforme strutturali del Paese, su cui la Commissione si è, anche qui, espressa favorevolmente e ci sosterrà finanziariamente, è quello che proprio si sposa con quanto abbiamo detto in questa prima parte della mattinata, che è lo studiare l'indice di convenienza delle operazioni di razionalizzazione, cioè come gestire gli usi governativi. Non applicando soltanto il teorema finanziario, cioè mi sposto da un immobile all'altro, investo X perché il risparmio, una certa quota di risorse, ma iniziando a introdurre concetti, e qui la Commissione è stata molto favorevole, che sono quelli dell'impatto ambientale, di tutto quello che è l'impatto sociale e quindi di un bilancio d'impatto di un'operazione gestita dall'Agenzia. Ultimo tema, e spero di essere stato veramente rapido, è questo per cui... non si apre più, diciamo l'Agenzia, diceva il Direttore, è posta un pochino al centro di questo lavoro. Questo ce lo richiama il PNR da ultimo perché ci dice che l'Agenzia deve sviluppare queste linee strategiche su tutto il patrimonio pubblico, cioè ovviamente per quello che è in gestione della pubblica amministrazione centrale, ma deve proporla a tutto il patrimonio pubblico. Questo ci richiede anche il quadro normativo e non da ultimo ogni atto di indirizzo del nostro Ministro delle Competenze, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ci richiama a possibili strutturazioni di operazioni in questo senso. Vi ringrazio e il nostro sforzo è in questa direzione. Grazie mille.